Musica Benvenuta da Andrea Sacchetti, figlio del maestro Paolo Parlaci delle novità che avete portato quest'anno a Repanetone Beh, quest'anno abbiamo portato una novità, cioè il panettone con cioccolato e arancio Abbiamo usato lo stesso impasto che usiamo già da anni per la specialità che è il giulette e il panettone classico, però quest'anno abbiamo usato anche, oltre ai canditi dell'Ajuso il cioccolato della Varrona Questa combinazione di ingredienti naturali permette ai clienti di assaggiare un grosso prodotto Vedo che quest'anno c'è stato un grande approccio a vostro Paolo Sì, devo dire che la gente viene sempre più volentieri Anche con il maltempo che c'è stato è venuta tanta gente E fa piacere vedere i clienti che continuano a rendere il prodotto anche senza assaggiarlo Devo dire che questo nuovo panettone cioccolato e arancio è andato veramente bene Per il resto sono contento perché la manifestazione sta andando bene Sta prendendo sempre più piede nella città e anche fuori dalla città Vi faccio i complimenti e ci vediamo l'anno prossimo Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi